Ragazzi vi presento una delle pizze più iconiche della tradizione partenopea, ovvero la cosacca. Prendiamo il nostro panetto della diversa mende napoletana e immergiamola nella semola rimacinata di grano duro, stendiamo bene il nostro panetto e partiamo subito con il ragù di tre pomodori. Raga, datterino, corbarino e pennolo del vesuvio. Stendiamola alla massima estremità sulla pala, andiamo in forno, cottura bella asciutta asciutta, pecorino e guaiù. E che ho mangiato?